Stai ascoltando un podcast Rizzoli Education Ci sono tanti motivi per cui noi leggiamo, condividiamo, consigliamo letture, amici e amiche. La letteratura ci fa fare conoscenza ed esperienza di vite molto diverse e lontane dalla nostra. Ci dà uno spazio tutto nostro di piacere e libertà e un modo per conoscerci. La letteratura parla di noi. Eppure, dove sono le donne? Come si spiega la loro assenza o trasparenza nella storia letteraria e nella società? Sono Maria Serena Sapegno, docente di letteratura italiana e di studi delle donne e di genere alla Sapienza Università di Roma e in questo podcast sarò affiancata da Sara De Simone, assegnista di ricerca e autrice del saggio Nessuna come lei, Catherine Mansfield e Virginia Woolf, Storia di un'amicizia. Insieme vi raccontiamo l'altra voce. Benvenute e benvenuti a tutte e a tutti a questo primo episodio di L'altra voce. Oggi qui con me c'è Sara. Ciao Sara. Ciao Serena, ciao a tutte e tutti. Sono contenta di iniziare questo viaggio insieme. Dicevamo, ma se la letteratura non ci coinvolge anche come soggetti diversi, maschi o femmine, non ci verrebbe nemmeno in mente che le donne sono in effetti apparentemente assenti dalla maggior parte delle rappresentazioni letterarie. Poi possiamo vedere qualche testo interessante della nostra letteratura, anche antica, che parli alle donne o delle donne. E poi ancora, cosa dicono le donne quando prendono parola su di sé? E sì, proprio sulla loro collocazione nella società o sulla loro esclusione, o su quello che gli uomini dicono di loro. Un viaggio rapido non c'è tempo per tutto, ma può essere un buon inizio. Ma allora Serena, se guardiamo alla letteratura del passato o a quella in genere insegnata a scuola, dove sono finite le donne? Basti pensare che nelle antologie di letteratura per il triennio è stato calcolato che la rappresentanza femminile si aggira tra il 2,74% e l'8,83%. Sono numeri che colpiscono se si pensa che secondo l'Istat nel 2022 la percentuale delle lettrici era del 44%, mentre quella dei lettori uomini del 34,3%. Quindi le donne comprano più libri, leggono di più, eppure sono le grandi assenti della storia della letteratura. Insomma, dove sono le donne nei libri di testo, nelle antologie, nei manuali? Beh, ne compaiono molte tra le protagoniste o le dedicatarie dei testi che leggiamo, ma sono sempre raccontate da uomini. Però questo, come tu stessa hai detto più volte durante le tue lezioni all'università, che io molti anni fa ho seguito, non può non fare la differenza. Cioè, una donna raccontata da un uomo, per quanto possa trattarsi di un grande artista, è comunque un oggetto di scrittura, un personaggio per lo più di finzione, creato e delineato da uno sguardo maschile, che su quel personaggio proietta la propria idea di che cos'è una donna, di come dovrebbe agire, di cosa dovrebbe sentire. Con l'eccezione delle comunità monastiche nei conventi maschili e femminili, fino al tardo medioevo, la maggior parte della popolazione è stata per molto tempo analfabeta, specie nelle campagne. Ma questo era vero sia per gli uomini che per le donne. Non può essere questo il problema. Inoltre, non era certo più così, quando si svilupparono le tante e ricche città italiane, dove l'istruzione di base, l'uso del volgare, il leggere e far di conto, si estendeva spesso alle classi medie. E allora? Indubbiamente anche nelle civili città italiane del II-IIIcento, l'accesso delle donne all'istruzione era più problematico di quello degli uomini. Si pensava anche allora, come per tanti secoli prima, che lo studio avrebbe distratto le donne dai loro compiti tradizionali, che minore istruzione potesse significare maggiore obbedienza. E naturalmente dominava la concezione aristotelica di una netta inferiorità delle donne, che giustificava la loro posizione subordinata nella famiglia. Così come l'indicazione di San Paolo per cui alle donne si addiceva il silenzio. Ecco la famosa indicazione di San Paolo, scusa Serena, ma questa va proprio citata letteralmente. Eccole le parole di San Paolo nella lettera a Timoteo. La donna impari in silenzio, con tutta sottomissione. Non concedo a nessuna donna di insegnare né di dettare leggi all'uomo, piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo. Beh, io penso che ci sarebbe molto da riflettere su queste parole. Ma non ti volevo interrompere, proseguiamo con il quadro generale sull'istruzione delle donne. Soprattutto nell'umanesimo e poi nel Rinascimento, quando l'istruzione era diventata un valore base della nuova società, alcune non solo ebbero la possibilità di imparare a leggere in casa, ma trovarono il modo di scrivere e in alcuni periodi raggiunsero anche una notevole visibilità. Si trattava di un'educazione fatta nelle case o nelle corti nobiliari, ma anche nei conventi, nei quali le giovani che desideravano studiare finivano per rifugiarsi. E sappiamo che lì trovavano, oltre a una pratica di scrittura, insegnamento e copia di manoscritti, anche una ricca tradizione di scrittura mistica in volgare, meditazioni religiose e poetiche. Sono numerose le donne di importanti famiglie aristocratiche italiane che nel Quattrocento poterono affacciarsi all'educazione umanistica, specialmente all'interno delle corti più importanti. Da Mantova a Rubino, da Milano a Napoli, a Ferrara, queste donne imparavano a leggere il latino, si scrivevano tra di loro, seguivano l'educazione dei figli, ma scrivevano anche in proprio, in volgare e in latino. Divenivano così una forma di lustro e di vanto per le diverse corti. Ma quindi solo le donne aristocratiche avevano la possibilità di studiare? Abbiamo anche molti casi di donne del ceto medio, che a Venezia o a Firenze, o in altre città mercantili, manifatturiere e repubblicane, si dedicavano all'apprendimento e alla scrittura e venivano perciò non solo apprezzate, ma apertamente valorizzate, come una dimostrazione del valore di quella società. Avevano iniziato con scritture commerciali e familiari, ma poi scrivevano orazioni per eventi pubblici, o lettere intese come testi pubblici da far circolare, o scritti devozionali. Ma il genere di gran lunga più praticato dalle donne, di cui ci sono rimasti molti esemplari negli archivi familiari e cittadini, sono certamente le lettere. Servivano a comunicare in famiglia, ma anche in affari, ad esprimere affetti e il proprio punto di vista. In effetti mi sembra che un errore in cui si ricade spesso è considerare il genere epistolare come un genere minore rispetto alla cosiddetta letteratura alta. Ma spesso sono state proprio le lettere, e soprattutto le lettere delle donne, a dare agli storici e a chi studia la letteratura le informazioni più importanti per ricostruire un'epoca, attraverso preziosi dettagli di cronaca quotidiana, che sono meno presenti nella comunicazione scritta fra uomini che di solito ha caratteristiche più ufficiali. Non è vero, Serena? Sì, sì, il genere epistolare nasce come prevalentemente non letterario, ma non a caso, e come vedremo, era stato già usato, e lo sarà nuovamente nel tempo, per fare spazio a punti di vista diversi anche all'interno di scritture decisamente letterarie. E certamente il Cinquecento, è stato il secolo in cui in Italia le donne diventano vere e proprie protagoniste della scena letteraria. Ciò accade naturalmente anche grazie all'allargamento dell'alfabetizzazione promossa dall'umanesimo, e di cui abbiamo accennato, combinata con la straordinaria rivoluzione costituita dall'introduzione della stampa a caratteri mobili. Si tratta di un primato della storia italiana, che è stato davvero poco conosciuto per secoli, e già questo stesso fatto costituisce un punto da indagare di grande interesse. Infatti, non solo sono centinaia le donne italiane che nel corso del secolo arrivano a vedere le proprie opere a stampa, ma tra di esse figurano scrittrici che si affermano con grande successo e notorietà nei diversi stati della penisola italiana. E non solo, ma non basta. Essendo in quel periodo la lingua italiana riconosciuta come lingua di cultura anche al di fuori del paese, quelle scrittrici diventano rapidamente modelli per le donne europee che desiderano misurarsi con la scrittura letteraria. Gli scambi epistolari di alcune scrittrici italiane, come nel caso della più famosa di tutte, la poetessa Vittoria Colonna, testimoniano di una fama internazionale e di relazioni culturali importanti con autorevoli donne di altri paesi europei. È quindi particolarmente interessante capire come mai, per tanto tempo, la conoscenza di alcune di queste scrittrici sia stata talora patrimonio di un piccolo numero di studiosi, ma non abbia fatto parte del patrimonio comune della cultura italiana che viene trasmesso soprattutto dalla scuola pubblica. Ma com'era lo sguardo dei contemporanei su questo, dei colleghi letterati, per esempio? Un parere molto interessante in proposito ce lo può offrire un grande scrittore come Ludovico Ariosto nel canto 37esimo del suo capolavoro, L'Orlando Furioso, in cui, dopo aver accennato alla sistematica opera di svalorizzazione che la storia antica ha fatto delle donne, scrive Non le vorrían lasciar venir di sopra E, quanto puon, fan per cacciarle al fondo Dico gli antiqui, quasi l'onor debbia desse Il loro oscurar, come il sol nebbia Beh, sono parole che forse non ci aspettiamo da un autore del Cinquecento Eppure, Ariosto è molto chiaro Gli scrittori dell'antichità, gli antiqui hanno cercato di oscurare il valore delle donne per paura che il loro talento, quello delle donne appunto potesse mettere in pericolo la posizione di privilegio maschile Mi sembra un giudizio molto esplicito quello di Ariosto Ah sì, per Ariosto, dunque, esisteva nel mondo antico una volontà precisa di oscurare il valore delle donne e infatti continua qualche ottava dopo E di fedeli e caste e sagge e forti stato ne son, non pure in Grecia e in Roma ma in ogni parte delle quai sono i pregi agli onor morti sì che appena di mille una si noma e questo perché avuto anno ai loro tempi gli scrittori bugiardi, invidi ed empi Questo sguardo nell'antichità, pur venerata al tempo di Ariosto che coltivava lo studio dei classici serve soprattutto ad affermare la superiorità appunto dei tempi presenti che arrivano a superare gli antichi tanto da poter concludere più avanti Se le carte si inquistate e gli inchiostri per voi non sono or sono ai tempi nostri e dopo aver ancora illustrato la meraviglia dei suoi tempi e dei suoi mecenati dichiara che per lodare tutte le donne sceglierà di parlare di Vittoria Colonna che è di tale grandezza da sfidare ogni invidia Per poi arrivare a concludere nell'ottava 23 Insomma mi sembra di capire che per Ariosto è l'invidia degli scrittori uomini ad aver cancellato secoli di scrittura delle donne messe da parte, dimenticate dopo la loro morte ma che questo nella sua epoca così almeno sembra sostenere Ariosto non accadrà più Beh l'opinione di Ariosto è molto stimolante per almeno due ragioni La prima è la sincera ammirazione manifestata verso le donne scrittrici e la sua conoscenza di esse e il suo tentativo di fornire una spiegazione plausibile alla cancellazione delle donne La seconda è lo sforzo di valorizzare al massimo il proprio tempo anche a partire dal nuovo spazio dato alle donne Quindi un'epoca moderna è un'epoca in cui le donne ci sono e sono ben visibili La presenza e la valorizzazione del talento femminile rappresentano per Ariosto una indiscutibile manifestazione di civiltà e di progresso È un discorso che colpisce per quanto è contemporaneo perché potremmo indubbiamente applicarlo all'oggi e riflettere su quanto sono presenti e valorizzate le donne non solo nella nostra letteratura ma nella vita di tutti i giorni Ma Serena a questo punto vorrei sapere chi sono gli altri letterati uomini che si rivolgono alle donne che le hanno in mente mentre scrivono e così via Beh uno di questi è indubbiamente boccaccio ma ne parleremo nella prossima puntata Va bene, allora aspetterò fino alla prossima puntata Ciao Serena e ciao a tutte e tutti Ciao Sara e ciao a tutte e tutti Hai ascoltato un podcast? Rizzoli Education Rizzoli Education